tanto loco tu devi sapere che se io entro su arma al 99.9% sono in live contemporaneamente quindi ormai ho questa prerogativa a chi si riferisce? a quel signore in bianco che stava scappando? con una maglietta tutta insalbinata? guardi io l'ho visto che parlava strano non so se stava male o aveva dei problemi mi parlava... ma anche se fosse non è che te lo direi comunque credi? perché mi hai spuso? mi ha sfondato le orecchie se io fossi amico del bugiasco non è che lo direi a te no? io devo chiedere lo stesso io l'ho visto che lui si è avvicinato a me parlava in maniera molto confusionaria non so se aveva qualche problema e poi a un certo punto l'ho visto scappare nel momento in cui voi siete arrivati oddio sono io presente mi dica si certo devo salire in macchina? ok d'accordo mi metto dietro salga dove vuole passeggero ora ridiamo grazie logo grazie per il follo minchia quello che c'è qua è un bammacello ma ora ridiamo dal nostro capo ci deve parlare buongiorno ma che bel posto eh la ringrazio la ringrazio comunque ci stiamo facendo un sacco di risate immagino ragazzi guardi siamo in Italia non facciamo niente di male quindi no no assolutamente io non mi preoccupo solo che questo prelievo subito senza nessun motivo ecco mi... volevo sapere quantomeno il motivo di tutto questo ok ok ragazzi per quanto siete sembrate tutti uguali quindi mi è difficile distinguervi e non siamo gli unici eh lo so lo so comunque le volevo dire ehm visto che dopo la che vedete le sue diciamo escursioni vedo che lei continui a fare sempre cose legali se non lo so io l'ho detto io io l'ho detto io l'ho... non ho capito addirittura allora le no il discorso è che c'è un attimo un attimo fuori rp ragazzi non mi è mai capito per tutto per tutto il tempo per tutti gli anni che ho giocato ad altis non mi è mai capitato di fare lo sbirro c'è allora i ruoli i ruoli che mi mancano sono il poliziotto e il medico ma anche a me io ti posso dire che se vuoi il meccanico anche perché se hai fatto il meccanico e non hai fatto il meccanico non ho nemmeno fatto il meccanico ecco appunto eh ok comunque a parte quello che volevo dire noi altri per me sarebbe un piacere quindi noi diciamo che siamo non proprio poliziotte però ci avviciniamo molto a più come lì se ti va di ritrovare per me sarebbe un piacere sì sì ragazzi anche perché è un ruolo che mi manco ho fatto il mafioso ho fatto i ribelle a sto punto faccio mi manca faccio pure il ricopro pure sto ruolo e vediamo di completare un pochettino sì sì per me va bene va bene allora benvenuto grazie mille adesso come si procede allora il benvenuto nella quarta prima visione vi ringrazio no non mi poteva andare mi sei costato 20 proiettili va bene poi te li ripago non c'è problema niente loco praticamente arriva e ti dice di entrare noi in una gang sono entrato ufficialmente nella quarantunesima divisione loco oddio si sta spogliando ma non è che è tutta in realtà vogliono fare altro questo si spoglia davanti a me è sono ufficialmente un poliziotto comunque sappi che lo stipendio in realtà non serve tantissimo perché abbiamo tutto ciò che abbiamo ce l'abbiamo in dotazione ovvero le armi per esempio a me la polizia mi da gli spar gli mx quindi comunque le armi ce le abbiamo in dotazione già va bene ok perfetto andiamo a dare una controllatina comunque al ragazzo che abbiamo incontrato prima quello con tutto bianco col vestito insanguinato si scappava il messicano ma ammazzo calate sti microfoli prendo il motorino te lo ficchi nel culo il motorino vado a comprare il motorino ti ficco le ruote nel culo merdaccia come dice scusi vado a comprare il motorino perchè sbiasci che ha problemi di salivazione vuole un po' d'acqua vado a comprare vado a comprare vado il motorino motorino ok d'accordo l'abbiamo capito ragazzi adesso questo qui lo facciamo anche pegare addosso si fermi dove va? il nome della legge niente non c'è nessuno in questo loro ritorno dove ragazzi mi comprate il vino non c'è nessuno adesso lo portiamo fuori dalla safe zone spariamo in aria non ne facciamo niente però spariamo in aria ascoltatemi quelli della grande mia ascoltatemi adesso lo portiamo fuori città io lo portiamo in una casetta io farò 3 2 1 via e voi dovete sparare in aria noi dovete sparare a lui in aria però lo dobbiamo far cacchere addosso tipo Uri le state andando ad usnare in chat diretta e sparate in aria come se fosse impazziti ok d'accordo questo è da clip ragazzi entri anche tu entri tutti quanti entri tutti quanti entri tutti quanti entri cazzo tutti quanti al mio via ho sparato ok lo dirò in chat dire e urlare sparate urlate in aria ok signore che sto dicendo per il motorino lo botterò eeeh lo botterò lo ignorare a questa cosa quindi devo praticamente affetto che c'è un piccolo discusso via eeeh 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 oh no eh si sta minchia io come entro dobbiamo lasciarla a piaia ragazzi che coglione è un coglione entrate entrate tutti quanti entrate vai vai correte correte via via entrate no 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 è entrato è entrato vai entrate 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 no 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 occhio ma dobbiamo trovare uno con i sassi di armi a posta l'abbiamo già trovato il mercato ooooh ma che cazzo ma che mazzo fate porti chiavi e chiede guardate chi sono che cazzo via 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 ma cazzo ma che ma non male che sono in live raga pronti a sparare uscite pronti a sparare tutti pronti a sparare raga pronti a sparare minchia porco disco mi sta sparando il canale amato sparare tutti il canale amato tutti il canale amato ragazzi ci sono tre cheater uno è ammanettato uno è morto e l'altro uno sul canale amato cristo porca troia aspettato un azzo as be ban by admin ok è il nino io ti do dire cosa da quando è iniziato il game di arma 3 nessuno è mai ha mai fatto il cheat è la prima volta cioè tu sei entrato oggi stasera sentato il nino e stasera ci sono uscite cosa è successo non lo so oh madonna il ribelle si è preso il panzer oh 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 ora spate al canale amato Adieu Porco zio Aia Minchia Mi sa che è successo un problema Ma che cazzo Complimenti